Salve, sono Simone Zambruno, tecnico del FrameLab, laboratorio di Multimedia e Digital Storytelling. Il laboratorio nasce nel 2013 nell'ambito di un progetto del Cilio Edilizia e Costruzioni di Unibo finalizzato alla ricostruzione 3D e allo storytelling del Battistero degli Ariani. Nel 2019 assume la configurazione attuale di struttura di ricerca del Dipartimento di Beni Culturali. È diretto dal professor Alessandro Iannucci ed è composto da un team dinamico di giovani ricercatori, dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca. La sfida interdisciplinare del FrameLab consiste nel coniugare saperi e competenze che sono tradizionali nello studio del patrimonio culturale con metodologie e tecniche digitali, in collaborazione con enti di ricerca, università e strutture museali italiane e internazionali. Nello specifico le nostre attività consistono in acquisizione e modellazione 3D, ricostruzioni digitali di oggetti e monumenti, virtual tour museali o tematici, elaborazione digitale di ricerche storiche e documentarie, digitalizzazione di archivi e materiale fotografico, elaborazione e restauro digitale di testi, manoscritti, papiracei, epigrafici, grafica e foto editing, georeferenziazione di mappe e realizzazione di atlanti storici, letterari e tematici, video storytelling, repository e collezioni digitali, comunicazione web. Tutti i casi di studio affrontati dal FrameLab sono riconducibili all'idea di museo virtuale. L'obiettivo è quello di far dialogare tra loro discipline differenti e coniugare ricerca scientifica e comunicazione pubblica, come indicato dai programmi europei di finanziamento per progetti legati alla memoria culturale e alle sfide delle inclusive societies e dell'open science. Tra questi le ricostruzioni dello studiolo di Belfiore e di quello di Gubbio o lo storytelling del distretto della Darsena di Ravenna.